Durante il San Diego Comic Con la Marvel ha lanciato tantissime bombe, tra cui i due film degli Avengers che arriveranno addirittura sembrerebbe nello stesso anno, nel 2025, intitolati Avengers The Kang Dynasty e Avengers Secret Wars. Ebbene, io volevo soffermarmi in questo video sull'ultimo che andrà a chiudere questa saga intitolata la saga del multiverso, come era anche plausibile giustamente. Allora, perché in Secret Wars, ci dice il noto insider e affidabilissimo Daniel Richman, potrebbero tornare molto probabilmente personaggi del calibro di Tobey Maguire nei panni di Peter Parker e anche lo stesso Andrew Garfield sempre nei panni di Peter Parker. E la cosa avrebbe assolutamente senso, perché nei fumetti, in breve, la Secret Wars sarebbero i due pianeti, le due realtà che vanno a scontrarsi, quelle ultime rimaste, ovvero Terra 616, che è la nostra dell'MCU, e la Terra Ultimate, e si vanno a scontrare per far sì che ne rimanga solamente una. Misteriosamente, fortunatamente, non si annulla nessuna delle due, nessuna delle due scompare, ma anzi, tutte e due collidono nello stesso universo e si vanno a fondere in un singolo universo. Quindi, per dirvi, lo Spider-Man di Miles Morales sta nello stesso universo dello Spider-Man di Terra 616, insomma, per farvi un po' capire. Ecco, quindi, sarà molto interessante, probabilmente il villain di turno sarà Kang, che, un po' come Infinity War e Endgame, sarà diviso in due parti, almeno ipotizzo io. E inoltre, Daniel Richman butta un'altra bomba dicendo che, oltre Maguire e oltre Garfield, che secondo lui torneranno al 100%, molto probabilmente la Marvel cercherà addirittura di chiamare anche Hugh Jackman per farlo tornare nei panni di Wolverine. Cioè, da per certo Maguire e Garfield, Jackman no, però, dice che potrebbe esserci una possibilità abbastanza importante che possa tornare anche lui, all'interno di Secret Wars, nei panni di Wolverine. E, sinceramente, sarebbe qualcosa di assurdo. Già così, come Maguire e Garfield e altri personaggi, altre variante, sarà un qualcosa di fuori di testa che, secondo me, per quanto riguarda la battagliona finale di Endgame, che è un qualcosa di assurdo, in confronto, almeno da quello che penso io mentalmente sulla carta, lo scontro finale che vedremo in Secret Wars, ripeto, sulla carta, potrebbe essere qualcosa di nettamente più superiore. O almeno in teoria, ripeto, perché i personaggi dovrebbero essere anche molti di più rispetto a quelli di Endgame. E la minaccia, comunque sia, è più grande, perché lì si parlava dell'universo. Qui si parla di tutti gli universi, del multiverso. Qui è in gioco tutti i vari multiversi, insomma. Poi staremo a vedere come l'adatteranno sul grande schermo. Sicuramente ci saranno tante differenze tra la parte fumettistica e quella, appunto, cinematografica, come ha fatto sempre l'MCU. Però, cavolo, se torneranno già solamente questi tre nomi, Jackman, Garfield e Maguire, cavolo, 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 cavolo. Cioè, prepariamoci. Io sono già avuto i propri corni in mano per il 2025. Non lo so, hibernatevi come il buon cap. Non lo so, aspettiamo. Quindi staremo un po' a vedere, voi nei commenti fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Secondo me potrebbe essere plausibile. Jackman non lo so, sarà più difficile, ma Holland, sì, Holland, scusate, Maguire e Garfield ci saranno, secondo me, sicuramente. E quindi ci sarà anche Holland, quindi non ho detto neanche una grande cavolata. Quindi io vi ringrazio, fatemi sapere la vostra e ciao a tutti.